Guardate queste immagini, è un uomo che attraversa la strada, va in bicicletta, entra ed esce dai negozi e scansa in tutta tranquillità le persone che incrocia passeggiando. Nulla di strano insomma, ma ci credereste se vi dicessimo che quest'uomo è completamente cieco? Eppure è quanto ha fatto risultare per anni. Che vede benissimo lo hanno scoperto gli uomini delle fiamme gialle della tenenza di Manduria. Ha 53 anni e da 35, cioè dall'età di 18 anni, percepisce, truffando l'Inps, la pensione di invalidità totale e quella per l'accompagnamento. Avete sentito bene, sono proprio 35 anni che quest'uomo finge magistralmente di essere cieco, o almeno è quanto risultava nella documentazione dell'Istituto di Previdenza Sociale. Nella quotidianità infatti l'uomo, le immagini lo dimostrano, conduceva a una vita del tutto normale. Impossibile infatti per un vero cieco mantenere tanto equilibrio da guidare una bicicletta con una mano sola, portando per giunta un enorme pannello di legno. Se ne andava spasso insomma a spese della comunità e nel frattempo si è anche fatto una famiglia, a moglie e un figlio, che fino ad oggi ha mantenuto, intascando circa 1300 euro al mese. Calcolando soltanto dal 1999 ad oggi, cioè gli ultimi 13 anni, la truffa monta a 180 mila euro. Ancora in corso di quantificazione, la somma erogata in totale dall'Inps prima del 99, scoperto dei finanzieri, ha prima tentato di simulare la cecità, ma poi, messo di fronte all'evidenza, non ha potuto far altro che arrendersi. Il 53enne ha rimediato una denuncia all'autorità giudiziaria, oltre che un sequestro di alcuni fabbricati, cointestati con la moglie, per recuperare la somma intascata. Quello delle truffe in Italia è un fenomeno purtroppo frequente e certo non manca la fantasia sulle patologie da simulare.